Affrontiamo questa sera altri quattro capolavori della magnifica mostra di Raffaello che, come ripeto, ci auguriamo di poter ammirare e godere interamente e lungamente dal vivo. Parliamo e iniziamo parlando di uno straordinario ritratto femminile che Vasari ci dice essere stato realizzato da Raffaello per effiggiare una donna che ebbe carissima, talmente straordinario che la pareva viva e che era nella casa del mercante Matteo Botti, mercante fiorentino, che teneva l'opera come un gioiello e per la devozione che aveva nei riguardi del magnifico pittore e per la straordinaria preziosità dell'opera. E l'opera di Matteo Botti è esattamente la velata. Vasari ricorda appunto che era il ritratto di lei, ma lei chi in realtà? È veramente Margherita Luti, figlia di un fornaio senese di Contrada Santa Dorotea, il gioiello con rubino, smeraldo e perla pendente allude al suo nome, in latino perla si scrive Margherita o Margherita. In realtà quel magnifico gioiello è presente anche nella cosiddetta fornarina e anche in altri ritratti della bottega di Raffaello, dunque non abbiamo prova che sia realmente lei. Ma sontuoso è l'abito, straordinaria e innovativa la posa, occhi sereni, fascinosi, che guardano con la modalità insegnata da Leonardo da Vinci verso lo spettatore, creando un rapporto immediato, emotivo, simpatetico. La bella porta quello che sembra un velo di lino naturale, don del nome la velata, e l'abito potrebbe apparire incredibilmente sontuoso, ma dobbiamo ricordare che non abbiamo alcuna prova che l'ultima, in termini di tempo, eterna amata di Raffaello fosse una cortigiana o una ragazza di vita. La veste straordinaria la definisce come una icona d'aristocratica bellezza. L'altro capolavoro di cui trattiamo è il magnifico, il sorprendente, l'epocale ritratto di Leone X de' Medici con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi Rossi. Il cardinal Giulio de' Medici, il futuro Clemente VII, il papa dello sventurato e atroce sacco di Roma, era figlio di Giuliano de' Medici, il fratello brutalmente ucciso con la congiura dei pazzi di Lorenzo de' Medici, mentre il cardinal Luigi de' Rossi era il figlio naturale di una sorella di Lorenzo il Magnifico. Il papa è il figlio di Lorenzo il Magnifico e questo quadro straordinario lo qualifica non soltanto come un potente, ma in realtà lo presenta in maniera iconica come un uomo di straordinaria cultura e di, potremmo dire, profonda, raffinata qualità umanistica. Le mani delicate e la straordinaria mozzetta come il camauro, il copricapo, entrambi di velluto rosso ed entrambi foderati, mozzetta e camauro, di spettacolare armellino. La magnifica Bibbia miniata, una Bibbia di qualche secolo prima che è già una sorta di straordinario oggetto d'antiquariato che il pontefice legge con l'ausilio di una magnifica lente d'ingrandimento, lo straordinario virtuosismo poi del campanello d'argento con decori a rilievo per chiamare i famigli e che attesta simbolicamente il dominio sugli uomini. Ma il pezzo di virtuosistica bravura che tutti imitarono è l'incredibile sfera di bronzo dorato, emblema dei Medici, appare in tutti i tradizionali stemmi, le cosiddette palle medice, che riflette in maniera incredibile tutta la camera che gira all'intorno, come scrisse Vasari, la schiena del pontefice e, secondo un espediente che torna ancora oggi, quando vogliamo dare l'illusione della sfericità di un oggetto, appunto il riflesso della finestra che batte perentoriamente. Una delle modalità di ritratto più sconcertanti, la barba appena rasata del pontefice che inizia a vedersi, per quale motivo venne realizzato il magnifico ritratto? Noi sappiamo che era un dono inviato in occasione di una cerimonia che celebrava le nozze di Lorenzo de' Medici, duca d'Urbino e della bellissima Maddalena della Tura d'Overgne, parente del re Francesco I di Valois, re di Francia, che era incredibile alleanza matrimoniale per unire le sorti della famiglia Medici con quelle dei regnanti di Francia. Il matrimonio aveva già avuto luogo il 2 maggio e avrebbe dovuto avere poi una ulteriore, potremmo dire così, celebrazione e riconferma a Firenze. Il pontefice non poteva essere presente. Dunque commissionò a Raffaello e ai suoi aiuti, e poi ne parleremo, lo straordinario ritratto che l'8 settembre del 1518 venne inviato a Firenze e posto sulla tavola dove banchettavano i neosposi. E la madre del giovane Lorenzo duca d'Urbino disse che sembrava di vedere il Papa, che con aria soddisfatta, ma anche imponente, sembrava godere gli sguardi d'ammirazione dell'intera tavolata. Dalle indagini radiografiche sappiamo che i due cardinali vennero aggiunti successivamente non sono di mano di Raffaello. Probabilmente sono stati realizzati da un valentissimo collaboratore come Giulio Romano, troppo essendo il nostro urbinate, obberato da importantissime committenze. Il terzo quadro di cui parliamo è quella magnifica immagine di donna, ancora oggi in buona parte enigmatica, che noi chiamiamola Dama con un unicorno. Interamente ispirata alla gioconda che Raffaello ha avuto modo di vedere, probabilmente durante il soggiorno fiorentino, la bella Dama aveva in origine, quando giunse nella collezione borghese, fra le braccia non già un unicorno, ma una ruota dentata tradizionale attributo del martirio della bella Santa Caterina d'Alessandria. Fu un geniale, un illuminato storico dell'arte italiano, Roberto Longhi, a consigliare il restauro. Il restauro portò all'eliminazione della aggiunta successivamente, diciamo così, ruota, e apparve quell'unicorno, simbolo di castità e di purezza, è probabilmente attributo di quella che sembra una neosposa. Gli occhi straordinari d'un azzurro morbido e vellutato, e azzurri al par delle lontane profondità del paesaggio, sono a tutt'oggi un'incredibile prova di bravura. Le maniche staccabili, di folto velluto e le due colonne, interamente ispirate alle due colonne che originariamente erano ai lati dell'immagine della Gioconda, parlano in maniera perentoria ad un linguaggio di Leonardo già interamente metabolizzato e assimilato. Concludiamo a ritroso con la cosiddetta Madonna Tempi, dal nome della famiglia fiorentina che l'aveva nelle sue collezioni del 1600. Una Madonna in cui Raffaello ancora una volta dichiara non soltanto la vicinanza a quello studio d'affetti e a quella nuova e più umana resa che Leonardo aveva insegnato. La Madonna con occhi di straziata dolcezza, guarda con intensità, potremmo dire quasi patetica e dolce il piccolo, e avvicina al suo volto magnifico le labbra semiaperte con un gesto di naturalissima, autenticamente credibile dolcezza il piccolo, ma il paesaggio lontano e la resa a spirale del corpo, in parte Leonardo, in parte Michelangelo, ma soprattutto la lezione scultorea d'un maestro indimenticato e fondamentale per ogni artista toscano da emulare e da riprendere, Donato De Bardi, detto Donatello. Quattro capolavori per un principe dell'arte, quattro capolavori che rendono ancora più affascinante, ancora più straordinaria quella avventura d'arte in costante crescita, che è l'esistenza di Raffaello, principe degli artisti.